Appunto sono andato a vedermi Il Castello Invisibile, sono andato a vederlo al cinema qualche giorno fa, settimana scorsa, vabbè questa settimana, e allora vi posso dire, bel film, è un film che più che altro io consiglierei caldamente a chi magari ha iniziato a vedere anime da poco, perché secondo me se questo qua lo vedi quando hai iniziato a vedere anime da 1-2 anni, 3 anni pure, top, va bene. Se lo vedi magari dopo che sei un po' più navigato, hai visto un po' più di cose, o sei un po' più grande, non è brutto assolutamente, il suo lavoro lo fa egregiamente, per dirvi, raccontarvi la storia, parla della storia di questi sette ragazzi che vengono, si ritrovano teletrasportati in un castello, in questo castello invisibile, dove passano del tempo. E l'obiettivo di questi ragazzi è quello di cercare una chiave, ci sta questo lupo qua al centro, questa ragazzina lupo, che gli dice che devono trovare una chiave, se troveranno questa chiave potranno realizzare un loro sogno, qualunque cosa vogliono. E poi andiamo a scoprire che questi sette ragazzi hanno tutti dei problemi ad andare a scuola, cioè non riescono ad andare a scuola perché sono vittime di bullismo o altre cose, e più o meno questo è come si articola l'anime, è un fantasy, un anime fantasy che alterna elementi fantasy con elementi slice of life, della vita scolastica di questi sette ragazzi. E' fatto molto bene, colonne sonore ok, ci stanno, anche se alcune volte partono in dei punti che a me non sono piaciuti, la qualità generale del film è buona, per quanto riguarda a livello di storia, a livello di colpi di scena, un po' scontato, un po' scontato e per certi versi un po' anche safe, cioè me l'aspettavo, me l'aspettavo, quindi è per quello che non mi sento di dire un filmone bellissimo, è un film che fa il suo, cioè se vi dovessi dare un voto vi darei un sette, sette e mezzo come voto, non mi ha fatto impazzire, cioè non è che sono uscito dal cinema e ho detto wow, però allo stesso tempo l'ho visto e ho detto eh, carino, ci sta, ci può stare e mo' anche qua, vogliamo fare spoiler, probabilmente la maggior parte di voi non lo vedrà quindi vi dico giusto alcune cose che risultano strane, diciamo che questi ragazzi, questi sette ragazzi, passano sette, otto mesi del loro tempo insieme. E' una roba simile, mi ha ricordato un po' Your Name per questo motivo qua, passano sette, otto mesi insieme in questo castello e dopo il limite di tempo per il quale loro dovevano cercare sta chiave, si scopre una roba incredibile, che in realtà era palese dopo un po', ma si scopre che questi sette ragazzi non vengono dalla stessa epoca, cioè ma vengono da epoche diverse, vengono da anni diversi, perché loro provano ad incontrarsi nella realtà, dopo sette mesi, dicono ma sapete che andiamo tutti alla stessa scuola, Perché non ci incontriamo nella stessa scuola e andiamo a scuola insieme? E scoprono che vengono da epoche diverse, ora, ma scusatemi, avete passato sette, otto mesi della vostra vita insieme, cioè sette, otto mesi insieme, non vi è mai venuta in mente questa cosa, cioè letteralmente ci sta una differenza di alcuni di questi tipo cinquant'anni, cioè uno di loro vive quarant'anni prima di un altro di loro, com'è possibile? Com'è possibile che non se ne sono resi conto? Quindi, roba bella your name, per farvi capire, e vabbè, oltre a questo, ve l'ho detto, è un film semplice che fa il suo, quindi non ho, non ho molto altro da dirvi, Il gott è il ragazzo che si innamora di tutte le ragazze, ah vabbè, il gott mo', il gott è il ragazzo che si innamora di tutte le ragazze, non lo chiamerei proprio gott, ma, in generale comunque i personaggi sono abbastanza simpatici, non mi dispiacciono, Ah, e tra l'altro c'è una scena di questo film che a me ha fatto scassare da ridere, praticamente dovete sapere che ci sta questa ragazza qua, questa a destra, che è, cioè, si scopre verso il finale del film che il padre prova essenzialmente tipo a molestarla, a stuprarla, ma non mi ricordo neanche se era il padre o comunque una figura genitoriale, un parente, prova a violentarla, mi ha fatto morire da ridere la parte in cui hanno fatto arrivare il padre, perché letteralmente ci sta il padre che apre la porta, e parte una colonna sonora tipo con la chitarra, una roba che io dico, oh mio Dio, ma tipo è arrivato un eroe? Cioè, sembra quella roba che dice è arrivato un personaggio importante, è arrivato un eroe, e poi però questo dizio si mette a molestare la ragazza, tipo a mezzo a toccarla, a baciarla, a fare queste cose, e dico, oh, non lo so, mi è sembrata una colonna sonora un po' strana da utilizzare in quel contesto, e poi no, altre cose strane non... è buono, è un film buono, che vorrei sapere come si cazzo si chiama su Anilist, perché non lo trovo, come si chiama su Anilist? Oh, grazie, ah, Kagami no Kojo, Kagami, oh, Lonly, ah, perché non è il castello invisibile, è il castello solitario nello specchio, eh, ok, infatti l'hanno adattato in italiano nel castello invisibile, ma in realtà non si chiama castello invisibile, quindi sì, per quanto mi riguarda io vi dico un bel sette e mezzo, fa il suo, fa decisamente il suo, ma non è niente di incredibile, forse pure sette e più, se proprio volessi essere un po' più cattivo, ma rimaniamo su sette e mezzo, penso mi sia piaciuto di più di Summer Ghost, però non gli posso dare otto meno a sto film, non se lo merita, Porco Rosso, cazzarola, cazzarola gli ho dato un voto parecchio basso, gli ho dato a Porco Rosso, eh, magari lo devo rivedere, abbassiamo Summer Ghost, via, è a posto così. Grazie a tutti.